La tragica storia di Diego Ma no Diego, è che a volte le cose che non funzionano bisogna accettarle così come sono E mica è facile Ma scusa, ragiona, ma perché preferiamo spendere magari un sacco di soldi per una cosa nuova Quando invece potremmo ripararne una vecchia? Te lo dico io perché per aggiustare le cose ci vuole amore Cura Dedizione